Sportello del cittadino riservato allo sportello universo donna, ci stiamo occupando del triste, del terribile fenomeno della violenza sulle donne. Siamo con Gianna Cavallo, responsabile dei servizi sociali e del settore pari opportunità dell'associazione Stella Maris che ha sposato questa causa. Stiamo cercando anche di individuare gli strumenti giuridici per contrastare il fenomeno. Oggi con chi saremo? Oggi saremo qui con l'Avvocato Barbara Biase, diritto di famiglia, si occupa e tutela dei minori. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello soprattutto sottolineato più volte del patrocinio gratuito, che molte donne sono all'oscuro, che possono rivolgersi a avere assistenza legale pur non avendo la possibilità economica. Avvocato Biase, allora parliamo di questi strumenti. Così come ha accennato la dottoressa Cavallo, io mi occupo del diritto di famiglia e la difesa dei minori, soprattutto in particolare di tutti i soggetti che sono abusati di violenza, non solo fisica ma anche morale e grazie al nuovo decreto legge del 2013 per tutti costoro è estesa la possibilità dell'istituto del gratuito patrocinio, addirittura non prevedendo più limiti di reddito. Questo è molto importante, è un'attenzione che il legislatore ha voluto rivolgere a questi soggetti proprio per una maggiore difesa e protezione nei loro confronti. Pertanto possono tranquillamente presentare istanza anche per il nostro tramite e ottenere una difesa gratuita per tutto il percorso e l'iter giudiziario che verrà a rendersi necessario per l'ottenimento e il conseguimento dei loro diritti. Andiamo proprio nel pratico. Se una donna si trova purtroppo in una situazione del genere di violenza subita, a chi deve rivolgersi? Allora la cosa importante e fondamentale è anche il fatto che finalmente sul territorio viene ad esistere questo sportello universo donna nel quale io sono stata coinvolta e mi sento coinvolta con piacere e con interesse proprio perché è uno sportello teso ad aiutare, ad ascoltare e a stare insieme per tutto il percorso con le donne che ne hanno bisogno. Quindi la sede è l'associazione Stella Maris in via di Palma 10 a Taranto. Sì, noi siamo qui, c'è tutta una struttura e un gruppo di professionisti, di persone che sono sempre presenti, disponibili ad ascoltare e a ricevere le persone in difficoltà e in disagio.